Mi regalo io una domandina e poi dovremmo aver chiuso. Allora, siamo arrivati a 100 miliardi circa di scostamento, più o meno cifre che all'inizio del lockdown erano state dette da qualcuno, diciamo tacciati di sfattismo, la sparata è grossa, cose di questo tipo, invece forse alla prova dei fatti non era così sbagliato e forse era un po' sbagliato la stima iniziale di 3 miliardi e 6 che era stata presentata da parte del governo. Questi scostamenti così grandi ci hanno però forse insegnato finalmente qualcosa, vale a dire che il deficit può anche essere bello, vale a dire che il deficit può servire, così come possono servire i surplus nel momento stesso in cui l'economia andasse molto bene. Non è quindi forse il caso, così gliela dico come discussione ai tavoli europei, ma che forse si potrebbe riportare anche al governo, essendo che c'è una proposta di legge peraltro bipartisan, vedere di abolire il pareggio di bilancio in Costituzione, dato che abbiamo scoperto che il pareggio di bilancio non vuol dire niente, cioè bisogna fare delle politiche procicliche o anticicliche a seconda delle necessità dell'economia che devono essere visionate volta per volta. Poi ovviamente non posso sottrarmi di chiederle qualcosa sul MES, associandomi ovviamente con forza e mi auguro di avere delle risposte puntuali alle domande fatte dal senatore Bagnai. Mi domando però, i tassi di interesse al momento fortunatamente, proprio perché non credo che esistano tensioni di cassa o qualcosa del genere, sono circa l'1%, ecco, mettiamola così, anche supponendo di spendere tutti i 36 miliardi, cosa che non succederà mai per vari motivi, perché abbiamo detto che poi le cose sono scaglionate nel tempo, che bisogna domandarli in questo, se servissero 36 miliardi per la sanità sarebbero in questo scostamento, ecco, dato che non ci sono, quindi sarà cose che si fanno in proiezione. Ora, insomma, deficit è bello, è brutto, insomma, peraltro Borghi ha questa giornata di grande positivo convergenza, anche ricordato che poi nei momenti di cui il ciclo economico va, è anche sul plus, è bello, ma si chiama appunto utilizzo anticiclico della leva fiscale che questo governo condivide da sempre e che si sta realizzando effettivamente con dimensioni molto significative, non usuali, perché non usuale è naturalmente la portata della crisi. Ciò non toglie che appunto, che poi, non l'anno prossimo, ma perché anche l'anno prossimo ci sarà un indebitamento alto, sia pure inferiore, poi l'obiettivo del governo naturalmente è di perseguire una strategia di riduzione del debito pubblico che rassicura l'onorevole Fassina, intende essere sostenibile, compatibile, coerente con politiche orientate alla crescita. E quindi, rimando alle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, circa ipotetiche combinazioni di avanzi primari sostenibili e tassi di crescita che dimostrano come è possibile, se si vince la scommessa di rilanciare la crescita e la competitività, la crescita potenziale del Paese, è possibile una combinazione virtuosa tra riduzione del debito e crescita dell'economia. È possibile e se utilizzeremo al meglio questa opportunità potremo raggiungerla e conseguire due obiettivi, perché anche l'obiettivo del debito, la riduzione del debito è una cosa bella, naturalmente, perché il debito, anche un alto debito, determina un utilizzo inefficace di una parte delle risorse dei contribuenti o del bilancio pubblico che sono utilizzate a pagare gli interessi sul debito e non a spese più produttive. Quindi, se si innesca, come obiettivo di questo governo, un circolo virtuoso di riduzione del debito e aumento della crescita, con una politica di bilancio sostenibile, si possono ottenere dei risultati positivi e, naturalmente, poter dare un impulso molto significativo per un periodo limitato di anni agli investimenti con le risorse europee, affiancarlo a riforme importanti, volte a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, a contrastare l'evasione fiscale, a ridurre i tempi della giustizia e massimizzare la capacità di spesa del Paese, tutto ciò può concorrere, appunto, alla riduzione del debito e al sostegno della crescita. Peraltro, nelle Siesar non c'è il catastro, dono le raccomandazioni all'On. Le Borghi, attuare in linea con la Clause di salvaguerra del generale tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa, quando le condizioni, non so cosa sta leggendo, io sto leggendo le country specific recommendations, 1, 2, 3, 4, quindi sostenere l'economia, fornire redditi sostitutive in un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici, attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, sostegno attivo l'occupazione, apprendimento a distanza, miglioramento delle competenze, fornire liquidità, anticipare i progetti di investimento pubblici maturi, promuovere gli investimenti privati, concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e risorse idriche, sull'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura dei servizi essenziali, migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica amministrazione. Queste sono le raccomandazioni molto, diciamo, piuttosto condivisibili dell'Unione Europea che definiscono la cornice delle misure del recovery plan, quindi, diciamo, questa è una condizionalità, diciamo così, piuttosto positiva perché si basa su raccomandazioni ampiamente condivisibili che il governo, peraltro, condivide, ha già definito anche all'atto della sua formazione come priorità. Quindi, penso ci siano le condizioni nella, diciamo, fisiologica dialettica politica tra maggioranza e opposizione, comunque per una convergenza non solo sullo scostamento dove auspico essa si realizzi, anche, peraltro, ricordo forte, diciamo, impegno, ho ricordato correttamente anche l'Onelo Caravaglia, a sostegno degli enti locali, delle regioni e anche il raggiungimento condiviso di un'intesa con essi e qui sarà una componente significativa, ma io auspico di potere già nei prossimi giorni avviare un confronto con le forze politiche di maggioranza e di opposizione più approfondito sui contenuti specifici del decreto, oltre che, naturalmente, un confronto più ampio che va oltre questi giorni in cui si dovrà, appunto, poi definire il decreto sul piano per il rilancio del Paese che verrà presentato in autunno all'Unione Europea. Grazie.